il castagnole innanzitutto perché castagnole? la storia dice che c'era un bosco di castagnole lo castagnole c'è sullo stemma, sullo stemma c'è l'albero, ci sono due lanci incrociate e c'è un serpente che salve ad proclay vuol dire chiaro vuol dire splendente, era il motto di questi signori feudatari il conte quando è arrivato ha comprato una casa e poi ha comprato tutta questa collinetta, questa montagnola dove ha fatto questo vivacolo sui ruderi del vecchio castello, sul fondamento del castello